Il progetto Templum è un progetto degli olivicoltori della Valla dei Templi che mira a salvaguardare gli oliveti, quindi il paesaggio della Valla dei Templi, attraverso la vendita a un prezzo più remunerativo dell'olio. La cooperativa Eppolivo ha appoggiato quest'idea perché è convinta che solamente dando un giusto reddito agli olivicoltori possiamo salvare il paesaggio della Valla dei Templi.